Buongiorno, benvenuti a questo incontro in cui parleremo di bio e neuromarketing come il settore può essere ulteriormente valorizzato. Abbiamo una serie di interventi in cui affronteremo tutte queste tematiche. Io sono Marina Bassi, caporedattore di GDU Week & Markup, testate di riferimento nel mondo del retail e cominciamo subito a vedere quello che succede. Siamo all'interno di Made in Nature e invito sul palco a parlare Sara Bellentani, Marketing & Communication di CSO Italy, che ci spiegherà quello che... Il microfono c'è, siamo a posto, ok, quindi posso sedermi qua. Prego, senza dar fastidio. Buongiorno a tutti. Io faccio una breve introduzione sul progetto Made in Nature per poi parlare un po' più nello specifico dei consumi di ortofrutta biologica in Italia. Iniziamo parlando del progetto Made in Nature che è una campagna europea finanziata dall'Unione Europea e dalle principali imprese del biologico, soci di CSO Italy che sono Brio Canova, Ceradini, Conservitalia, Orogel Fresco e Veritas Biofrutta. È un progetto che ha una durata triennale, ha preso il via il primo febbraio del 2022 e giungerà al termine il 31 gennaio 2025, quindi ormai ci stiamo avvicinando alla chiusura dell'ultima annualità. Ed è un progetto che si rivolge a quattro paesi target che sono Italia, Danimarca, Francia e Germania. In questi anni ci siamo posti degli obiettivi ambiziosi che sono prevalentemente la riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030 e cercare di portare al 25% il totale dei terreni dedicati all'agricoltura biologica. Secondariamente ci stiamo impegnando per promuovere il consumo di ortofrutta biologica nei paesi target e promuovere una cultura del biologico a tutto tondo e cercare di promuovere l'adozione di una dieta sana e sostenibile che quindi porta ad un miglioramento della salute dei cittadini dell'Unione Europea diminuendo quindi la spesa sanitaria. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo messo in piedi una serie di attività prevalentemente di comunicazione sia offline sia online tramite la creazione di un sito web e tramite l'uso delle principali piattaforme social in questo caso Facebook, YouTube ed Instagram e proprio con Instagram abbiamo coinvolto degli influencer che ci hanno aiutato a condividere, a realizzare e condividere dei contenuti per diffondere i valori del progetto e del biologico e abbiamo previsto la partecipazione alle più importanti fiere di settore coinvolgendo anche operatori chiaramente di settore e poi tutte queste attività sono state affiancate da un'importante attività di ufficio stampa che ha previsto il coinvolgimento di importanti testate di settore. Non siamo ancora giunti al termine del progetto però comunque abbiamo già raggiunto degli obiettivi, dei risultati molto soddisfacenti, abbiamo raggiunto più di 84 milioni di consumatori con attività svolte in più di 754 punti vendita e in oltre 3.000 giornate di degustazione e grazie alle fiere e agli incontri B2B abbiamo raggiunto più di 92.000 esperti di settore e le attività sul web e sui social ci hanno portato ad arrivare a più di 46.000 utenti sul web. Conclusa l'introduzione sul progetto mi soffermerei adesso sui consumi di ortofrutta biologica in Italia in cui la porzione di ortofrutta biologica che viene acquistata oramai da anni rappresenta il 10% del totale e anche nel 2023 come vediamo dal grafico si è attestata sulla stessa percentuale quindi la percentuale viene confermata nonostante in questi ultimi anni ci sia un calo un po' generale negli acquisti di ortofrutta che negli ultimi due anni hanno registrato un calo complessivo di circa il 15%. Come accennato per la componente convenzionale anche l'ortofrutta biologica ha subito un po' un calo negli ultimi anni, ha chiuso il 2023 sotto il segno negativo per quanto riguarda i volumi e nello specifico nell'ultimo anno sono state acquistate circa 500.000 tonnellate di frutta e verdura biologiche e questo segna un calo dell'8% rispetto ai volumi del 2022 che erano già in forte contrazione. In media nel 2023 le famiglie italiane hanno speso circa 2,30 euro al chilo per acquistare ortofrutta biologica e questo segna un più 9% rispetto all'anno precedente e la spesa complessiva rimane più o meno la stessa rispetto al 2022. Per scendere un po' più nel dettaglio la frutta perde circa il 5% dei volumi rispetto all'anno precedente mentre la verdura circa l'11%. Le più levi variazioni negative quindi dei volumi relativa alla frutta hanno fatto crescere la percentuale appunto della frutta all'interno della categoria come si vede nel grafico danno però degli ortaggi. Ecco in questo grafico vediamo la classifica delle specie che sono state più acquistate di ortofrutta biologica e il confronto tra il 2023 e il 2022. In generale le specie che performano bene non sono tante però performano in maniera positiva sia le banane che le mele rispettivamente con il 5% e il 7% in più e sono degne di nota anche le pesche e le nettarine che diciamo migliorano del 5 e del 7% rispettivamente. Non si può dire lo stesso invece per gli ortaggi che hanno una situazione un pochino più complessa la diminuzione dei volumi acquistati biologici è diffuso un po' in tutta la categoria fanno giusta eccezione le zucchine che hanno un 7% in più e le cetrioli che registrano un più 5%. Come si vede dal grafico nel corso del 2023 la frutta e la verdura biologica è entrata circa nell'80% delle case delle famiglie degli italiani in almeno un'occasione e questo è un dato positivo che torna un po' a livelli record già registrati in passato e abbiamo quindi un 20% di potenziali acquirenti che ancora non sono consumatori biologici però potrebbero diventarlo. Chiudiamo con una panoramica del 2024 la situazione per la prima metà dell'anno è positiva con un incremento dei volumi acquistati del più 5% rispetto all'anno precedente e una spesa che aumenta del 7% a fronte di un aumento del prezzo del 3% quindi l'ortofrutta nel complesso è stabile possiamo dire che l'allentamento dell'inflazione ha consentito un nuovo riavvicinamento delle famiglie all'acquisto di ortofrutta biologica e sarà poi interessante vedere se anche nella seconda metà del 2024 questo trend verrà confermato sia per l'ortofrutta convenzionale sia per il biologico. Grazie Grazie Sara una panoramica interessante sul mondo del biologico e dell'ortofrutta c'è stato un momento in cui pensavo di avere sbagliato ma effettivamente nel 2024 i dati che ho visto sia del rapporto Coop che di Nielsen indicano che frutta e verdura sono tra i settori che meglio stanno performando in questi mesi quindi vuol dire che ci sono spazi di manovra per miglioramenti e ampliamenti certo serve probabilmente qualcosa in più per riuscire a trasmettere le valenze del biologico ed ecco qui che quindi il professor Vincenzo Russo dell'Ulm e di molte altre cose ci racconterà meglio qual è il rapporto tra l'ortofrutta biologica e il neuromarketing e quali sono le opportunità che si aprono per le aziende prego professore bene intanto grazie grazie per l'invito e per la presentazione sì il neuromarketing diciamo che faccio una breve presentazione di chi siamo questo è un centro di ricerca che nasce nel 2008 quindi sembra ancora il neuromarketing una cosa appena arrivata in realtà ne parliamo da 16 anni la prima volta che qualcuno ha parlato di neuromarketing nel 2002 però è una materia nuova è una materia nuova perché non è conosciuta perché i centri di ricerca sono dispersi in giro per il mondo noi stiamo creando appunto una serie di connessioni anche per condividere metodologie e anche per cercare in qualche modo di dare un'alternativa alla neurofuffa che ce n'è tante in giro intanto oggi un elettroencefalogramma costa 1000 euro con dati automatici ma poco affidabili ma questo le aziende non lo sanno quindi questo è un grossissimo rischio quando diciamo di coinvolgere i centri di ricerca in neuromarketing chiedete sempre un pedigree quello che pubblicano perché ripeto di tentativi di presentarsi esperti scienziati grazie al cervello praticamente è dietro l'angolo neuromarketing io lo presento sempre con un filmato molto veloce che è questo che vediamo grazie a tutti 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 Avete visto un po' di attrezzature, in realtà questo è un film filmato di circa 6 anni fa, l'attrezzatura è diventata molto più potente e meno costosa, quindi questo ci aiuta. Oggi abbiamo degli elettroencefalogrammi a 52 canali, significa che noi possiamo mettere 52 elettrodi e avere una mappatura del cervello molto più articolata e anche più indicatori, quelli che interessano fondamentalmente le aziende, li vedremo. Ovviamente l'attrezzatura non è soltanto da laboratorio ma anche in field è possibile portarla, visto che è tutta mobile e ci dà delle interessanti indicazioni. Vi do soltanto un dato, un dato Ipsos, che ci dice che se riusciamo a fare, se aumentiamo del 10% la visibilità di un prodotto a scaffale, la probabilità di acquisto aumenta il 35%, quindi modificare qualcosa in quello scaffale significa avere un effetto importante, dato Ipsos. Ora è chiaro che noi utilizziamo una serie di strumenti che ora vi presenterò, poi vi presento anche qualche caso, però l'aspetto più interessante secondo me non sta soltanto negli strumenti, perché qualcuno potrebbe pensare ma questa è la macchina e la verità degli anni 60. Sì, lo è, però con una grande differenza. Le macchine sono molto più potenti, sono molto più sincronizzate e soprattutto tutto sta qui. Cioè nella conoscenza del cervello. Oggi abbiamo una migliore conoscenza del cervello che ci permette due cose. Uno, sapere dove posizionare gli elettrodi, sapere dove andare a misurare quello che cerchiamo. Faccio un esempio per capirci. Questa è la corteccia prefrontale e dorso laterale, un nome terribile che i miei studenti non impareranno mai. Però quella parte lì del cervello, che è questa, ha a che fare con la memoria. Se io faccio vedere uno spot pubblicitario, al di là di quello che le persone mi racconteranno, io posso misurare in questa parte del cervello se c'è un processo cognitivo che, se è ripetuto su più soggetti, mi dice che probabilmente sta pensando a quello che ha visto. Quindi capita bene che abbiamo bypassato il dichiarato, che è un elemento fondamentale. Io sono un psicologo che ha sempre lavorato, oltre all'esperienza che abbiamo condiviso con qualcuno, nel campo dei consumi ho fatto tanti focus group, tante interviste, tanti questionari. Ma vi assicuro che quello che si ottiene con queste strumentazioni è impareggiabile. Anche perché ormai, sapete benissimo, i questionari si fanno online. Ogni tanto noi capiamo che vengono messi i flag soltanto in maniera casuale. Non parliamo di focus group. Prima se ne facevano tanti focus group in giro per l'Italia, adesso se ne fanno due o tre al massimo e poi c'è sempre l'imprensamento reciproco, c'è quello che dice come ha detto lui, ma come io ti pago per dirmi come la pensi tu e tu mi dici come pensa... No, capite? Tant'è vero che già nel 2003 qualcuno diceva, beh, smettetela di utilizzare soltanto i focus group perché non avete dati affidabili. In effetti questa metodologia ci dà dati molto affidabili, perché pensate per esempio su uno spot pubblicitario ne possiamo andare fino a 500 millisecondi, quindi frame by frame, e dire quel frame ha determinato questo tipo di reazione. Quindi è estremamente interessante. Siamo di fronte, e lo dico sempre, di fronte a un cambiamento di paradigma mostruoso, perché abbiamo sempre pensato, e questo anche quando raccontiamo le cose anche con il packaging, con gli ingredienti descritti in un prodotto, come se il nostro interlocutore fosse come lui. L'avete riconosciuto? Sì, Spock. Meno male, perché l'ultimo ultimo l'ho fatta il mio studente e ho detto, e chi è questo? Troppo giovane. Devo rinnovare un po', però è lui, è lui razionale per eccellenza. Quando decide deve fare tutti quei passaggi lì, riconosce il problema, ricercare le informazioni, valutare, scegliere e verificare i risultati. Questa è la rappresentazione che voi trovate nei manuali di economia o di marketing riguardo al processo decennale. Poi c'è sempre scritto accanto, noi siamo così. Peccato che poi c'è l'emozione e la personalità che ci disturba questa roba qua. In realtà noi non siamo così, ma non lo dico io. Lo diceva già nel 78 un premio Nobel per l'economia, Eber Simon, che diceva che noi non siamo razionali. Noi siamo limitatamente razionali. Cioè non è vero che andiamo a raccogliere tutte le informazioni che ci servono per decidere, quelle che reputiamo soddisfacenti. Quindi l'amico che mi dice che quel prodotto è buono, il packaging che mi attira, quello che mi ricordo, la pubblicità. Quindi capite bene che non siamo razionali, siamo dei grandi semplificatori. Ma qui ovviamente entra in gioco Daniel Kahneman che ha vinto il premio Nobel per l'economia per questo motivo. Già nell'81 c'era qualcuno che diceva come decidono i consumatori, che già ci fa capire come funziona la storia. Se la motivazione è alta, e oggi i consumatori hanno una motivazione alta perché vogliono capire cosa ci sta nel prodotto, ecco perché quei numeri che avete visto, il biologico attira l'attenzione, c'è più sensibilità. Se la motivazione è alta, ed è alta, e se le abilità cognitive sono alte, allora sì che si sceglie con razionalità. Il problema dove sta è che molte volte le persone quando scelgono, noi li vediamo mentre vanno in giro per i punti vendita, la motivazione è bassa, non stanno lì a guardare e a leggere tutti quanti gli ingredienti possibili e immaginabili di un pacco di biscotti. Non abbiamo né il tempo né la voglia, siamo molto stanchi. Ma ipotizziamo di fare questa operazione. Quanti realmente capiscono il significato di quello che leggono? 20-25%. Stiamo facendo delle indagini sulla confettura. Sì, una cosa cerca nella marmellata? Frutta. E poi zucchero. Ok, in che percentuale? E già ti guardano strano, in che senso, in che percentuale? Poi gli vai a chiedere qualche informazione in più, ma la pectina ci deve stare o no? E quanti sanno che cos'è la pectina? Poi andiamo su altri elementi, c'è un'ignoranza a questo punto di vista. Perché fate domande difficili. Eh sì, figuriamoci quando chiediamo se c'è la cocciniglia o meno. O che cos'è la zagara? Sicilia lo sanno. I miei studenti soltanto 10-15 sanno cos'è la zagara. Quindi di fronte ad una conoscenza un pochino più bassa, ovviamente cos'entra in gioco l'emozione. E quindi il packaging, quindi il prezzo, e quindi la provenienza, e quindi tutto quello che ha a che fare appunto alla dimensione emotiva. Giusto per fare un esempio. Se io faccio vedere questi tre tipi di packaging a un gruppo di persone e chiedessi qual è quello che ha il caffè più intenso, secondo voi cosa mi rispondono? All'oscuro. No? Perché? Perché è rosso. Ora, capite come il nostro cervello di per sé ci porta in quella direzione, per una banalità. Ma attenzione, qui entra in gioco la neuro-gastrofisica. Cioè quella scienza che studia come elementi che nulla hanno a che fare col gusto possono modificare la percezione dei sapori. Perché per esempio, se io prendo un succo di frutto e lo coloro di rosso con enocianina, che è un colorante in odore e in sapore, le persone mi diranno che è più fruttato, è più zuccherato dello stesso succo di frutto non colorato. Ma qui entra in gioco il cervello, che ci fa ovviamente dei piccoli scherzi. Di questi scherzi diciamo che noi ormai ne conosciamo tanti, per esempio una mousse al cioccolato messa su un piatto bianco, viene percepito un pochino più dolce di una mousse al cioccolato messa su un piatto nero. E ho detto, ma ci cascano veramente? Sì, l'ho fatto pure con Igino Massari, 146 professionisti pasticceri. Gli abbiamo fatti assaggiare la stessa mousse fatta da Igino su un piatto bianco e un piatto nero. E siccome erano esperti, abbiamo aggiunto una variabile in più. Musica ad alta frequenza, piatto bianco. Musica a bassa frequenza, piatto nero. Musica ad alta frequenza è una musica dolce, per esempio i Beach Boys. Musica a bassa frequenza, i Carmina Burana. Soltanto il 23% si è accorto che la mousse era la stessa. Gli altri hanno detto che col piatto bianco la mousse era molto più dolce. E l'ho fatto anche con i sommelier, con il vino. Ci divertiamo. Questo perché? Perché il cervello ci inganna, il cervello si prepara a sentire alcune cose. Fermo restando, attenzione, che un prodotto cattivo rimarrà cattivo. Ci può fare quello che vuoi, non cambia. Per un prodotto buono, può essere percepito migliore. E qui poi vedremo perché. Questo è un altro esperimento molto interessante, fatto da alcuni colleghi, che hanno fatto assaggiare a un gruppo di persone in risonanza magnetica un liquido amaro. Presentandolo con un liquido molto amaro. E si vede come l'insula, quella pallina che vedete qui, questa qui è l'insula nel sistema limbico, ha a che fare con il gusto, con l'olfatto. Pagate prevalentemente con tutto ciò che non ci piace, quella lì si attiva. Se voi pagate con danaro, quella si attiva. Se pagate in carta di credito, si attiva di meno. Hanno fatto assaggiare un liquido molto amaro, dicendo che questo è molto amaro. E hanno visto che quella si attiva tanto. In una seconda fase hanno presentato lo stesso liquido, però dicendo che questo è meno amaro di prima. E si è vista che non solo le persone ti dicono che è meno amaro, ma quella lì si attiva di meno. Eppure quella è collegata col sistema gustativo olfattivo. Ora capite, proprio perché c'è un'influenza, e tra l'altro ci sono alcuni elementi sensoriali che ci influenzano più di altri, perché per esempio il nostro cervello ha il 50% delle cellule deputate alla visione, soltanto l'1% al gusto e all'olfatto. E quindi i colori hanno un'importanza fondamentale. Se presento un'etichetta tendente al giallo-verde e la metto in una bottiglia di birra al limone, mi dicono che è più limonosa della stessa birra presentata con l'altra etichetta. Ora capite perché la 7up è passata da quella formula a quell'altra, con il 15% in più di colore giallo. Ci hanno messo anche il limone, e le persone dicono che è più buona, è più limonosa. E questo ovviamente vale anche per il colore del packaging. Colori intensi o colori tenui. Voi andate sempre più verso i colori tenui, perché sono quelli che più ispirano in questo momento, che ci fanno ipotizzare che andiamo su un avversante più bio. Su questo aspetto permettetevi di dire che le prime ricerche sulla potenza evocativa dei semafori che fece in Ilterra nel 2009, si è visto che a fronte di semafori verde, rosso e giallo, quando c'era un package che ricordava il sostenibile, quindi cartonato, quello vinceva su qualsiasi altro tipo di comunicazione. Questo perché siamo dei semplificatori, non stiamo lì a leggere tutte le informazioni, ahimè. Se non una piccola parte. Allora anche il colore delle luci ha un effetto. Questo è un esperimento fatto in una cantina del Reno, in cui hanno presentato Riesling, che voi sapete essere un pochino dolcino, con diverse luci di sottofondo. A volte erano bianche, a volte erano verdi, a volte erano rosse, altre volte erano blu. Quando veniva presentato con una colorazione tendente al rosso, veniva percepito un pochino più dolce e si è venduto un po' di più, perché hanno associato quel tipo di sapore a un prodotto di migliore qualità. Quindi anche le luci all'interno di un punto vendita sono estremamente interessanti, e poi anche le musiche, dicevo, musiche ad alta frequenza, tipo questa. rispetto a una musica a bassa frequenza, tipo questa, a un effetto diverso su un cervello. Questo l'ha scoperto Charles Pence vincendo il premio Ig Nobel. Conoscete il premio Ig Nobel? No, non vi è mai capitato. Lo prende chi non c'ha il Nobel. Vi prego, andate a cercare i premi Ig Nobel. Sono dei premi che si danno, i premi Nobel si danno per la ricerca più interessante, i premi Ig Nobel per la ricerca più stupida o più strana. Però ti dà tanta notorietà. Come per esempio il fisico che ha scoperto, ha scritto per l'algoritmo, del perché la tendina ti si appiccica mentre ti fa la doccia. Essenziale nella vita. Cioè sono i divertenti, o perché il picchio non ha mal di testa, cioè veramente cose interessanti. Lui ha vinto il premio Nobel per la nutrizione perché ha dimostrato che le patatine Pringles sono più croccanti se mangiate con la musica d'alta frequenza. Che già sono una... E gli ha dato grande notorietà. Però non vuole dire in giro, è diventato famoso, quindi non vuole dire che ha vinto quel premio lì. Quindi è l'alta frequenza che bisogna usare? Sì, la frequenza poi dipende cosa vogliamo fare, perché per esempio c'è una frequenza particolare che incide sulla materia. Il mio amico Beppe Vessicchio, con cui facciamo interessanti esperimenti, è dimostrato come le onde sonore modificano la struttura della materia, modificando per esempio la qualità del vino o l'acidità di un limone assaggiato, armonizzato rispetto a quello non armonizzato. Però questo sarebbe un altro argomento che trattiamo in un altro evento. Però la musica ha un effetto sia strutturale, sia sul cervello, perché crea delle aspettative. Ho provato a vedere un film, un trailer senza la musica di sottofondo, mi mette da ridere. Certo, soprattutto se fa paura. Ora, perché succede tutto questo? Entriamo nel cervello. Questa è una ricerca fatta nel 2008 con dei bicchieri di vino. Due bicchieri di vino. Ho presentato un gruppo di non esperti, un bicchiere molto costoso, costa 45 euro a bottiglia, e l'altro 5 euro. Quindi il loro compito era assaggiare di questi due vini e dire qual era il più buono. Ovviamente quello a 45 dollari è più buono di quello a 5 dollari. Peccato che il vino è lo stesso. Ma se tu mi dici, è normale, se tu mi dici che costa di più, ti dico che sicuramente è più buono. La parte più interessante sta qua. Cioè nell'avere fatto l'isolanza magnetica a chi pensa di assaggiare un vino diverso, un vino più costoso o meno costoso. Ora noi abbiamo un'area del cervello, oltre all'insula, qui c'è la corteccia orbito-frontale. La corteccia orbito-frontale, orbito significa sopra i nostri occhi, frontale, questa parte del cervello ha a che fare con le esperienze positive. Soprattutto gustative e olfattive, perché è proprio vicino al nostro sistema olfattivo e gustativo. Se c'è una cosa che ci piace, quella si attiva. Non ci sono santi. Anche quando c'è un bel volto. Ora guardate che succede quando io penso di assaggiare un vino da 45 dollari. Questa si attiva di più rispetto a quando io penso di assaggiare un vino da 5 dollari. Anzi, se dico che il vino costa 90 dollari, guardate giù in basso, rispetto a 10, quella spara da matti. E il vino, veramente lo percepisco, più buono. Anche se è lo stesso. Può essere l'effetto del prezzo, ma lo stesso è stato fatto con il brand, con il packaging, con gli elementi contestuali, con l'accoglienza nella ristorazione. La corteccia orbito-frontale ci fa percepire più, come dire, migliore ciò che è buono. Quindi, capite bene, l'operazione che hanno fatto quello di lo champagne per tanto tempo. Nonostante noi continuiamo a vincere le gare, anziché quest'anno, i nostri produttori, i lunelli, sono diventati produttori dell'anno, quindi abbiamo asfaltato lo champagne. Però non riusciamo a fare i margini che fanno loro. Hanno 300 anni di storia di marketing. Ora, anche la descrizione di un prodotto ha il suo effetto. In questa caffetteria hanno presentato lo stesso prodotto ogni tanto con il suo nome di base, cheesecake, altre volte come New York Style Cheesecake con salsa e cioccolato goto. Porca miseria. È più buona. Infatti, si vende il 27% in più, le persone lo pagano, sono disponibili a pagarlo fino a un 10% in più e la caffetteria viene percepita migliore. Ora, capite bene che effetto potente che ha il packaging. Io ho lavorato molto per la Sicilia, ogni tanto mi ritrovo questa assurdità che neanche negli anni 80 si usava, eppure anche in giro. Confrontandolo con lo stesso prodotto dei francesi, capite bene qual è l'effetto sul mercato. Stesso prezzo, qualità percepita completamente diversa e ovviamente anche disponibilità all'acquisto. Potremmo parlare anche del peso del prodotto, del packaging. Anche il peso del packaging in qualche modo ha un suo effetto. Il cartonato difficile da aprire fa percepire più fresche le patatine. In questo caso cosa hanno fatto? Hanno messo dei pesi dentro il packaging, non dentro il cioccolatino, dentro il packaging e hanno fatto assaggiare i cioccolatini. Quando la scatola era in mano le persone, il peso era importante, si è visto, come vedete appunto da tutti quei grafici, come l'intensità del sapore era migliore e più forte rispetto allo stesso cioccolatino presso da una scatola meno pesante. Certo, qui si solleva il problema della sostenibilità e vi anticipo un problema. Noi stiamo lavorando con un'azienda, magari la conoscete, si chiama Salchetto, che è un'azienda in Toscana, fa tutto biologico, li conoscete. Loro vogliono fare tutto proprio tanto da dirci misuriamo anche l'efficacia che ha la bottiglia un pochino più leggera. quindi stanno riducendo il peso delle bottiglie. Noi abbiamo fatto la sperimentazione con gli strumenti che vi farò vedere e si vede intanto nel dichiarato le persone dicono che vogliono le bottiglie leggere perché le bottiglie leggere sono legate appunto razionalmente ma quando prendono in mano la bottiglia leggera rispetto a quella pesante il cervello regisce in maniera diversa. Quindi in questo momento c'è la voglia di avere razionalmente qualcosa di biologico però dall'altra parte il cervello continua a giocarci brutti scherzi è una questione di abitudine ovviamente anche la forma del cibo ha un suo influence la Calvuri qualche tempo fa per risparmiare un pochino aveva già questo cioccolatino è uscito con un cioccolatino un pochino più come dire meno dispendioso per l'azienda cioè hanno ridotto il cioccolato mantenendo il packaging hanno ridotto il cioccolato ma non nella ricetta nella forma hanno bombato gli angoli no? carino viene percepito più dolce ora anche questa la forma rotonda ha un effetto sul tutto ciò ovviamente ha a che fare con l'inconscio il nostro cervello funziona in maniera inconsapevole più di quanto si possa immaginare lo dicevo questo qui è un libro di Gerald Zaltman del 2003 in cui diceva sì va bene il focus group per studiare le opinioni però andiamo a misurare la reazione emotiva delle persone veramente perché molte cose sono inconsce non ce le raccontano e qui abbiamo la spiegazione questo è un paper pubblicato nel 96 da parte di Joseph Redun ai più grandi neurobiologi che ci ha spiegato come funzioniamo meglio di tanti altri poi la parte centrale del cervello quella tutta colorata si chiama sistema limbico è quella che ha a che fare con le emozioni lì c'è il nucleo cubens che ha a che fare con l'emozione positiva l'insula che abbiamo visto prima l'aspetto negativo in verde c'è l'ippocampo che ha a che fare con la memoria emozioni e memoria sono la stessa parte del cervello ecco perché tutto ciò che mi provoca un'emozione io non me la dimentico ma la parte più interessante sta qui l'avere dimostrato che qualsiasi stimolo visivo gustativo olfattivo la prima parte del cervello che si attiva è il sistema limbico il talamo quello azzurro che funge quasi da relais dice alla middala che è la più grande e più importante ghiandola quella rossa in poche parole dice senti tu che sei svelta e veloce dimmi se questa è buona o no buona 13 millisecondi cioè in 13 millisecondi quella roba lì ci dice se una cosa è buona o no buona e quindi cosa fa ci prepara a scappare o a rimanere è come quando noi siamo in mezzo a un bosco e vediamo qualcosa e assomiglia a un serpente noi ci muoviamo no? è razionale? no è estintivo è colpa della middala dopo 500 millisecondi il talamo parla con la corteccia cerebrale e gli dice tu che sei più intelligente vai a vedere se la middala ha fatto bene o ha fatto male quindi questo significa che noi siamo predisposti a madre natura prima a rispondere estintivamente emotivamente e poi a razionalizzare quindi allora non siamo razionali siamo dei razionalizzatori no? cerchiamo di giustificare quello che emotivamente abbiamo provato ora generalmente io faccio vedere un filmato ai miei studenti per far capire come funziona la middala vediamo se con l'audio ce la facciamo vederlo anche qui quel movimento lì chiudere gli occhi allontanarsi pensate che l'ultima volta che l'ho fatto eravamo con Allianz con un grande tutto al buio un video gigantesco la mia sottore delegata è caduto quella è la reazione cioè quello è allontanare quella è la middala poi a un certo punto arrivi al cervello e gli diciamo ma perché hai paura? è semplicemente una panna nel video calmati ora questo che significa? significa e qui c'è il cambiamento di paradigma noi non siamo macchine pensanti che si emozionano ma macchine emotive che pensano qui c'è un cambiamento è una bella frasetta non è quella frasetta che si fotografa su Instagram ma qui c'è un cambiamento di paradigma mostruoso cioè si sta dicendo che noi siamo prima delle macchine emotive quindi dobbiamo studiare la dimensione emotiva e non si fa con i questionari non è possibile farlo con i questionari perché quella è una razionalizzazione a posteriori allora a questo punto vengono in gioco gli strumenti del neuromarketing quindi l'eye tracker che ora abbiamo in diverse formule per poter appunto studiare i comportamenti dei consumatori in laboratorio ma anche oltre che in laboratorio anche in field abbiamo degli etencefalogrammi oggi abbastanza potenti questi sono gli indicatori di cui parlavo prima primo la valenza emotiva una sorta di interesse o disinteresse da quello che sto leggendo o quello che sto vedendo la memorizzazione abbiamo trovato pubblicato da un collega molto famoso si chiama Tom Aransoy una sorta di indicatore di witness to pay che voi sapete essere molto importante per le aziende c'è la disponibilità a pagare lui ha correlato lo stiamo testando anche noi la dimensione cognitiva e quelle emotive si è vista che quando si attivano insieme in maniera significativa c'è un'alta probabilità di acquisto l'attenzione si misura qui dietro si misura con la parte occipitale che ha a che fare con la visione ma lo misuriamo anche con l'eye tracker incrociando il dato abbiamo un dato molto più affidabile e il workload non ho capito non ho capito che cosa sto leggendo quindi tutti gli indicatori di difficoltà di comprensione quindi capite bene che al di là di quello che le persone ci dichiarano o ci possono dichiarare perché avete visto che molte cose sono inconsce noi possiamo misurare direttamente quello che succede e a volte troviamo anche delle discrasie sta il dichiarato e poi il vissuto che può provocare dei danni non da poco in giro ci sono delle slide degli articoli che abbiamo scritto su Danacol perché Danacol nel 2018 mandò in onda uno spot pubblicitario che è piaciuto tanto razionalmente alle persone si chiamava Numbers non abbiamo il tempo di vederlo qui però è stato un massacro sono andati a meno 21% di prodotto venduto sul mercato considerate che Danacol fa l'86% di prodotto venduto con lo spot pubblicitario perché il target è televisivo quindi sbagliare quello e la cosa interessante è che noi abbiamo testato lo spot e nonostante anche a noi avessero detto è bello ci piace mandateli in onda il dato nero era tutto negativo io l'avrei bloccato quindi molte volte perché succede questo perché il cervello reagisce in un modo e poi noi ricostruiamo magari la storia apparentemente sembra funzionale vi faccio un esempio in quel passaggio di quello spot pubblicitario si vedeva per esempio un ragazzo che prendeva 9 si parla di numeri positivi poi arriva il colesterolo 220 numero negativo i numeri positivi 9 al liceo e noi abbiamo visto che piace questa cosa tranne al cervello perché abbiamo visto che quando appariva quel 9 la parte retencefalografica andava in negativo ovviamente potevi cercare di capire perché perché è difficile non è che ti dice il perché la macchia ti dà soltanto il dato poi ci arrivi il perché quanti di voi hanno preso 9 durante un esame al liceo? nessuno nessuno beh uno solo due bravo da me non li davano i 9 quindi ci sono due cose magari c'è il pensiero irrazionale magari c'è una reazione a qualcosa di negativo la valutazione o magari non è così non sono io magari un 7 sarebbe stato meglio però per farvi capire come a volte reagiamo a delle cose che razionalmente sembrano positive in realtà non lo sono o potrebbero appunto non esserlo ovviamente si misura anche il battito cardiaco e la sudorazione delle mani che ci dà un altro indicatore importante il sistema limbico con la migdala parla col corpo direttamente con il battito cardiaco e la sudorazione per farci scappare da lì si tira fuori un indicatore si chiama emotional index emozione positiva o negativa e poi anche alto o bassa quindi capite che con l'indicatore fisiologico battito cardiaco e sudorazione delle mani abbiamo un dato di emozione pura quella che dice mi devo allontanare ovviamente le applicazioni possono essere infinite come per esempio il restyling di punti vendita e questo è divertente l'abbiamo fatto alla Conad di Sub Audio gruppo Marasca si entra ovviamente si guarda tutta la parte della frutta è emozione positiva ma proprio tanta positiva e voi sapete perché la cosa interessante è che quando le persone guardano quella a farino lì sotto in basso quella plasticaccia verde la reazione elettroencefalografica va in negativo ovvio in un luogo in cui ti aspetti tutto fresco non ti aspetti quella plasticaccia verde magari ci potevi mettere questa qui che è tipo legnosa ma sempre plastica ma piace di più sono piccoli errori ovviamente che ci portano a pensare a ristrutturare gli ambienti questo è un altro spazio sempre di nel gruppo Marasca abbiamo visto appunto la negatività della plastica visto che si parla appunto della plastica quando si guarda appunto il fresco però si possono creare anche cose interessanti come soluzioni come queste se vi capite di passare da Jonas Abaudi è andato a Fondi o ad Aprilia a vedere il super conad del gruppo Marasca hanno trasformato seguendo le nostre indicazioni dando molta più esperienzialità positiva forse hanno modificato talmente tanto che qualcuno di Conad ha detto non siamo più noi questa cosa non ci piace tantissimo però ci stiamo lavorando ovviamente con l'uso appunto delle etichette ci andiamo a nozze perché lì puoi vedere quello che le persone guardano e quello che non guardano e quello che provano allora a questo punto se quel meno 30% di grassi è quello che attira e che fa vendere il prodotto noi possiamo misurare quanti passaggi ci vogliono visivi per arrivare a quell'informazione e magari scoprire che non si vede prima come si dovrebbe vedere cioè nei primi passaggi per esempio in questo caso galbusera meno 35% di grassi se andiamo a vedere colore il colore indica rosso se focalizzazione giallo minore focalizzazione verde dove non c'è colore non c'è passaggio oculare quindi vedete che questa cosa non funziona ma se te lo scrivi in quella maniera con quel bollino il 30% di grassi meno rosso a sinistra succede questo si guarda quindi è banale anche questo la scelta di colori il volto il volto di un bambino il volto di un cane di un gatto è attrattivo perché a noi ci interessa questa cosa allora a volte piccole fegatini di mosca possono modificare l'esperienza per esempio queste sono delle bottiglie di un barbaresco messe sullo scaffale le bottiglie intanto già non si vedono perché vedete che rispetto le altre bottiglie le altre etichette non sono particolarmente attrattive quello con il quadrato giallo quindi c'è un problema già di etichettatura ma abbiamo provato a non modificare l'etichetta ma a modificare un'altra cosa la chiusura la chiusura della bottiglia che passa da nera a rosso creando anche una coerenza col prodotto col barbaresco dentro che succede vedete che intanto è più colorato in termini di sequenza di visualizzazione si passa dal tredicesimo posto al settimo posto vi ricordate il dato che avevo detto prima 10% di visualizzazione in più 35% in più di probabilità di acquisto e questa è infatti la probabilità di una percentuale di visualizzazione che passa dal 33% al 67% con una riduzione del tempo spesso per arrivare a vederlo quindi meno tempo per vederlo vuol dire che è più attrattivo cioè decido prima lo vedo prima esatto il time spent significa quanti millisecondi non secondi millisecondi io vedo quella roba lì e questo è il dato Ipsos di cui vi avevo parlato ovviamente noi lavoriamo tanto con le etichette anche del mondo del vino scopriamo appunto che noi esperti guardiamo alcune cose noi guardiamo l'annata guardiamo il brand ma i non esperti non guardano quello che guardiamo noi ed è importante capire che loro guardano il grado alcolico guardano la certificazione biologica quella la guardano sempre proprio questi simboli qua a loro piace tantissimo poi guardano anche la capienza della bottiglia che è sempre la stessa non si sa mai magari mettono 70 anziché 75 e così come riscontriamo che chi è particolarmente attratto alle tematiche della sostenibilità guarda in maniera diversa i packaging che sono abbastanza sono identici questi qua sono soggetti più interessati al gusto e questi qua più interessati alla dimensione health quindi vedete appunto come la ricerca della certificazione o degli indicatori di qualità vengono cercati in maniera differenziata dai soggetti questo è un esperimento fatto è uno stralcio di serie di esperimenti perché poi i materiali sono molto più complessi ma giusto per introdurre la materia questo lavoro fatto per il Comieco per vedere che differenza c'è tra un package stesso prodotto un package di plastica e un package di plastica perché l'altro è pure di plastica però sembra di cartone e non c'è dubbio che il primo è molto più attrattivo del secondo in termini di visualizzazione guardate qui se mettiamo a confronto i risultati poi potremmo avere anche il dati in euro ma non avevamo il tempo di farvi vedere una delle tante ricerche che abbiamo fatto per un'azienda che doveva appunto portare qui dall'America Latina dei mirtilli allora intanto i soggetti che si usano non sono numerosi non avremo bisogno di 800 900 persone perché quella è un'analisi che viene fatta con campioni rappresentativi della popolazione o dei tuoi target per cui hai bisogno di no noi cosa misuriamo noi misuriamo il sistema limbico il buono o no buono poi ci sono le opinioni che sono sempre importanti noi facciamo sempre la parte di ricerca intensiva con questionari con interviste preferibilmente ma noi misuriamo la relazione più istintiva quella del sistema limbico che non è immediata da questioni legate al danaro o dall'essere di Palermo o di Milano sono legate a tre diversi fattori l'età e lì c'è una differenza tra uomo e donna fondamentale tra parentesi voi donne andate a cercare tutti i dettagli noi ci fermiamo su poche informazioni ma siamo fatti così ancestralmente se potremmo rimanere qua a discutere la diversità di cervello uomo o donna quella è un'altra lezione ancora ma c'è una differenza molto forte c'è una differenza tra giovani e anziani e c'è una differenza tra diverse etnie se io confronto la reazione di un italiano con un danese sul vino l'abbiamo fatto il dato è identico ma se confronto la reazione di un italiano con un cinese sono diversi quindi quando c'è una forte differenza culturale che poi diventa biologica che poi diventa culturale siano delle grandi differenze allora qui non vi sto a raccontare ma abbiamo utilizzato tutti gli strumenti perché più strumenti si usano meglio è per questo tipo di analisi non ho citato mai l'implicita association test che cos'è è la misura dei tempi di reazione questo è molto interessante perché misura gli atteggiamenti impliciti come funziona faccio un esempio per capirci la nostra memoria è caratterizzata da associazioni di idee di concetti serpente il serpente è collegato alla parola veleno quindi la parola veleno che mi si presenta con l'immagine del serpente come stimolo la riconosco più velocemente di una parola che ha a che fare con cheesecake ok a meno che non avete trovato nella vostra cheesecake un serpente ma mi sembra improbabile quindi c'è un forte collegamento cosa facciamo noi facciamo presentiamo una serie di parole positive o negative con lo stimolo se nel cervello delle persone il collegamento è forte con le parole negative è chiaro che c'è un problema l'hanno utilizzato gli americani tantissimo per gli studi dei tabù tabù sociali razzismo immagini di un nero poi se riconosci più velocemente le parole negative vuol dire che nella tua mente quella figura è associata a elementi negativi è una misura si usa molto per esempio per l'analisi del brand o per l'analisi di immagini che si possono utilizzare quello che abbiamo fatto per i mirtilli vado a chiudere è veramente complesso abbiamo fatto un'analisi del packaging un'analisi del testing sia nel prendendo il prodotto dal packaging in laboratorio e anche in field l'analisi del colore del tipo di mirtillo perché il mirtillo può essere o blu o anche tendente al bianco con la polvenina e anche l'influenza della provenienza quindi è un progetto molto molto articolato questi sono i quattro packaging che abbiamo analizzato appunto sia in laboratorio che è in field qui c'è un filmato che fa vedere appunto come gli occhi delle persone si muovono sul packaging sia presentato in laboratorio sia presentato realmente sullo scaffale rispetto a quest'altro e abbiamo poi anche il dato neuro in questo caso il dato neuro è un dato di attrazione si chiama approach withdrawal index cioè mi avvicino o mi allontano che ha a che fare appunto con la piacevolezza e l'esperienza sicuramente questo qui è quello che ha provocato la reazione più negativa probabilmente perché c'è questa cosa aperta e quindi può avere avuto questa influenza però sappiamo che questa roba ha meno probabilità di essere gradita rispetto alle altre le altre soluzioni questa sicuramente è quella che ha avuto più attrazione questo vale anche per i colori anche in questo caso qui in questo caso siamo stati abbiamo lavorato in field vedete che ora parte un filmato in cui si vede con le persone che vanno a scegliere il prodotto possiamo vedere quanto tempo impiegano per andare a analizzare il prodotto gli ingredienti e nel frattempo provare a misurare anche la reazione emotiva positiva o negativa e qui poi alla fine abbiamo appunto visto che quelli bianchi sono molto più capaci di provocare una reazione fisiologica positiva e questo è un'analisi di quello che succede mentre mi approccio mentre prendo il prodotto e mentre guardo l'etichetta e quindi possiamo spacchettare l'esperienza appunto in singoli passaggi devo dire che è un diverso modo di fare gli studi rispetto a prima ha cambiato enormemente il nostro approccio anche da un punto di vista delle pubblicazioni pensate che io prima pubblicavo due paper all'anno ora ne pubblico quasi 17-18 significa che c'è un grande interesse dal punto di vista scientifico da parte delle riviste e questo mi permette di avere una squadra di quasi 30 persone con un'università che ci dà soltanto 10.000 euro ma questo fa parte dell'Italia grazie per chi volesse avere più informazioni c'è un libro che si intitola Neuroscienza a tavola che è fatto proprio su queste cose perfetto professor Russo grazie ci ha aperto e soddisfatto un mondo abbiamo capito siamo emotivi no emozionali ok quello è molto bella Cartesio che già era complicato da studiare ce lo dimentichiamo e il libro si intitolava così bello abbiamo sperato negli anni di liceo che questo succedesse meno male che prima o poi ci dicono che potrebbe succedere adesso comincia la nostra tavola rotonda invito i miei ospiti e cominciamo a confrontarci su biologico e quello che abbiamo sentito allora invito a salire con me sul palco Vincenzo Finelli direttore generale di Oro Gel Fresco prego grazie Mauro Laghi direttore generale di Allegra Paolo Pari direttore Almaverde Bio benvenuti grazie grazie anche di averci invitato a nostra volta allora io direi comincerei dal breve racconto di chi siete cosa fate sì dunque io sono il direttore di Oro Gel Fresco Oro Gel Fresco è una cooperativa di primo grado con diversi stabilimenti un po' in tutto il territorio nazionale e quindi altrettanti produttori associati alla cooperativa che producono appunto in diversi territori nazionali abbiamo produzione esclusivamente in Italia e stocchiamo e confezioniamo il nostro prodotto all'interno degli stabilimenti il biologico all'interno della nostra azienda rappresenta all'incirca da un 15 fino a un 20% delle nostre produzioni la variabile è legata al discorso delle condizioni climatiche come abbiamo potuto vedere negli ultimi anni questa variabile incontrollabile sta diventando sempre più significativa buon tema esatto quindi le produzioni sono quelle classiche del nostro territorio nazionale e siamo all'interno del gruppo Oro Gel che è una struttura cooperativa di secondo grado all'interno della quale ci sono tante altre cooperative di primo grado che diciamo così fanno capo al gruppo che nel mondo dell'industria sorgelata è un punto di riferimento assolutamente sì Mauro Laghi intanto oltre a essere direttore generale di Allegra oggi direi che sono qui in veste più come responsabile commerciale della Brio che è la società del nostro gruppo che si occupa di commercializzare prodotti biologici il gruppo è fatto appunto da tre aziende che sono Allegra Brio e Valfrutta Fresco come Brio abbiamo una storia lunga di commercializzazione di prodotti biologici che producono le cooperative di primo grado che fanno riferimento appunto al nostro gruppo in particolare a Grintesa la Brio commercializza all'incirca 50% del suo prodotto sul mercato italiano il 50% sul mercato estero principalmente il mercato europeo l'anno scorso abbiamo fatto 56 milioni di euro di fatturato esclusivamente i prodotti biologici siamo una delle realtà principali assieme a Canova poi parlerà il collega subito dopo di me nel mondo nel mondo del biologico siamo soci di Alcenero e come tale abbiamo l'esclusiva della commercializzazione di ortofrutta fresca a marchio Alcenero oltre ovviamente a commercializzare anche con altri brand oltre confessioniamo per le private label e per le marche del distributore va bene è il suo ti vuol pronto sì io sono Paolo Pari sono il direttore di Almaverde Bio Almaverde Bio è un brand di un consorzio che si chiama Almaverde Bio Italia che concede in licenza d'uso il marchio ad aziende dell'aggo alimentare specializzate nel biologico per quanto riguarda l'ortofrutto come diceva prima Mauro è l'azienda di licenza etaria del marchio per quanto riguarda l'ortofrutto biologico che è l'azienda Canova che è l'azienda specializzata nell'ortofrutto biologico del gruppo Pofruit di Cesena sono 90 milioni di euro di fatturato distribuiti per il 60% sul mercato nazionale sul mercato estero e basta e basta insomma voglio dire tutte realtà importanti che infatti fatta questa presentazione io direi parliamo entriamo un po' più nello specifico e parliamo di biologico e prezzo allora il prezzo del biologico per natura diciamo e per valore anche è maggiore del convenzionale a questo punto però il problema è come far percepire al consumatore questo maggior valore anche in termini di prezzo no? per voi voi come vi state comportando visto come dire uno dei temi anche del prezzo è legato ad esempio allo sviluppo che c'è stato nel biologico in GDO per cui abbiamo detto il prezzo è diminuito però poi diminuisce ma la qualità rimane forse bisogna fare le filiere o forse no bisogna fare delle operazioni diverse di esposizione prezzo voi il vostro punto di vista qual è io dico questo la questione del prezzo nel biologico è un falso problema ottimo dico una battuta non è il biologico che costa molto ma è il convenzionale che costa troppo poco questo è questo è un buon punto però noi dobbiamo pensare che l'ortofrutta biologica parliamo di ortofrutta biologica oggi viene venduto con le stesse logiche di dieci anni fa che non vanno più bene l'affare prezzo è un elemento chiaramente o di disaffessione o di attrazione dipende noi operiamo noi abbiamo esperienza diretta e operiamo all'interno di contesti estremamente competitivi cioè praticamente sono corner gestiti all'interno di un reparto corner biologico che siete all'interno di un reparto convenzionale ciò nonostante ciò nonostante se organizzi l'offerta in maniera diversa diversa più articolata secondo le logiche del convenzionale cioè non c'è solamente un tipo di mela non c'è solamente un calibro di frutta non c'è solamente un tipo di confezionamento ma sui prodotti principali altomendenti riesci a realizzare una scala presto il problema del presto non viene superato come in tutte le cose chiaramente c'è chi dice mi interessa o non mi interessa però di fatto con queste dinamiche l'elemento prezzo viene ridimensionato nella sua importanza è molto più importante comunicare i valori del prodotto questo non c'è dubbio i valori che stanno sono in questo momento scippati da dei me too che non sono credibili perché il biologico è sostenibile per legge non per fantasia ben prima dell'agenda 2030 lei dice esattamente allora invece in questo momento vuoi perché i brand cosa devono fare i brand non possono fare la cosa universale cioè i brand fanno comunicazione sul valore del brand perché il biologico ha un valore come posso dire assoluto nel senso che se lei si fa certificare è biologico come me non è che fa il biologico più buono del mio io posso difendermi come brand facendo un nuovo prodotto un'innovazione di varietà mettendo sul mercato una nuova confezione compagnia bella quindi io cerco di comunicare i plus ambientali di sostenibilità del biologico però devo anche difendere il posizionamento del mio brand perché altrimenti siamo tutti uguali allora un brand rinuncio a fare il brand quello che manca è la credibilità e la potenza di una comunicazione istituzionale che parla al consumatore in maniera credibile di quelli che sono i valori del prodotto biologico questo manca noi in Italia se mi ha messo 15 anni a fare una legge sull'agricoltura biologica che ancora deve un po' scalcagnata voglio dire se noi ci concentriamo solamente sulla differenza di prezzo cioè non è questo non è questo non è il biologico perché io devo dire il biologico costa di più perché non utilizzando la chimica di sintesi produce di meno e beh e poi c'entra anche un po' il gusto diciamocelo quello lo dimentichiamo ma quello fa sempre la differenza non è neurologico la questione del prezzo è puramente razionale secondo me però lei ha detto una cosa molto molto precisa o almeno io ho capito così che per rendere il prezzo meno unico criterio è inutile mettere il biologico con una soltanto scelta in un angolo a parte ma bisogna farlo diventare all'interno del relativo della relativa categoria dando della scelta per cui no recluso dentro è spiegato ricordi l'indagine che abbiamo fatto sul consumatore insieme a Coppa Italia no? cioè c'era un 30% di acquirenti fedelissimi che quindi vogliono solamente del maggiore contenuto di servizio maggiore informazione eccetera un 30% di vorrei ma non posso ma qualora ci fosse io lo comprerei e quello che segue è solamente la promozione di taglio prezzo basico cioè proprio allora voglio dire ci sono dei margini di miglioramento organizzando le offerte in maniera diversa rispetto a come viene fatta oggi no certo diciamo che da questo punto di vista però Coppa è un altro mondo perché una mela piccola come nel convenzionale costa meno di una mela grossa anche nel biologico costa meno di una mela grossa nel biologico come nel convenzionale ma non è un svalorizzare il prodotto significa dare il valore giusto il prodotto giusto come è nelle logiche del commercio Mauro Laghi lei cosa dice ma è un tema veramente complesso e articolato intanto prezzo è anche devo dire un termine un po' improprio nel senso che il biologico ha un costo mediamente maggiore del convenzionale che si traduce poi in una necessità di avere un prezzo superiore certo non è perché il biologico deve per forza costare di più delle volte anche a livello di vendita vediamo che ci sono dei momenti oggi che è sempre più difficile produrre ed è difficile nel biologico in particolare ma lo è anche nel convenzionale ci sono dei momenti con delle carenze particolari di prodotto per cui ci troviamo anche che noi che tutti trattiamo sia biologico che convenzionale ci troviamo che il convenzionale a volte su alcune referenze ha anche dei prezzi più alti rispetto a quello del biologico quindi bisogna generalizzare un po' fatica però mediamente produrre in biologico è più difficile si produce meno e questo si traduce nella necessità di avere di costi più alti quindi di avere un prezzo più alto per i prodotti biologici quello che bisogna comunicare è il valore che ci sta perché quando si passa dall'emozionale come ha detto il professore al razionale poi se dietro c'è una base dico anche culturale per cui si capisce cosa vuol dire biologico che biologico io non ho fatto campioni statistici ma se tu chiedi in giro quasi tutti ti dicono che vuol dire che è senza residui da qui la competizione e la confusione con il residuo zero però biologico è molto altro e quindi trasmettere queste informazioni è una cosa che anche questo progetto sta tentando di fare ma non può essere soltanto l'iniziativa delle aziende dei produttori privati che può raggiungere questi obiettivi serve sicuramente un'educazione una cultura più generale anche perché gli obiettivi che l'Unione Europea si è imposta sono veramente sfidanti e per raggiungerli poi ci vuole un cambio di mentalità anche nel consumatore quindi credo che questo sia veramente importante poi dopo anche giustamente come diceva Paolo il biologico purtroppo è ancora una nicchia abbiamo visto il 10% forse anche meno e quindi forse si studia poco questo comparto e bisogna sicuramente cambiare un po' le logiche con cui il prodotto biologico viene presentato ai consumatori perché il mondo è cambiato corre molto veloce e noi invece siamo legati molto a una visione tradizionale dei prodotti biologici quindi sicuramente si può fare tanto anche a livello di punto vendita qui serve anche una collaborazione tra noi produttori e le catene di distribuzione che siano disponibili a lavorare per valorizzare per studiare qualcosa di diverso una presentazione diversa confessioni diverse soluzioni diverse e in alcuni casi stiamo ottenendo dei risultati veramente interessanti quando intervenite su questi quando lavoriamo su questi elementi qui esatto le degustazioni aiutano oppure sulla frutta e verdura non servono non è che non servono le degustazioni hanno dei limiti e soprattutto dei costi veramente elevati nel senso che per fare una degustazione che raggiunga un livello di consumatore molto ampio bisognerebbe farlo su una scala di che non è sempre possibile fare non è sempre possibile fare esatto le normative che ci sono sulla sicurezza sulle norme di garanzie di qualità è fatica a tagliare sul punto vendita un frutto o lavarlo certo ci sono delle norme che sono molto stringenti veramente poi l'altra cosa che dobbiamo l'importante è che quando il consumatore effettua l'acquisto poi la soddisfazione la trovi anche a casa quindi torniamo al gusto di cui parlavamo prima torniamo al gusto ma non serve necessariamente farglielo provare sul punto vendita perché poi l'esperienza bisogna che sia positiva e quindi certo diventa una catena virtuosa Panelli cosa ci dice? Sicuramente niente da aggiungere nel senso che gli argomenti sono questi come si diceva il discorso è molto articolato e molto complesso probabilmente tornando alla domanda dalla quale siamo partiti come dobbiamo comunicare queste differenze probabilmente una riflessione che mi sento di aggiungere condividendo tutto quello che è stato detto finora è quella che agli albori il biologico ci si è concentrati nello spiegare al consumatore medio che cosa fosse il biologico e quindi per 10-15 forse anche 20 anni nella comunicazione si cercava di spiegare che cosa ci fosse alla radice del biologico poi abbiamo avuto una decina d'anni dove la grande distribuzione ci ha dato una grandissima mano nel rilanciare i consumi e quindi ci siamo probabilmente concentrati su comunicare altri aspetti siamo andati più nell'aspetto ci siamo concentrati più sul prezzo e quindi abbiamo dato per scontato che il consumatore medio si ricordasse o sapesse che cosa fosse il biologico forse siamo in una fase in cui dobbiamo tornare un attimo indietro perché dobbiamo spiegare che dietro quel prezzo c'è un costo come diceva Mauro e quel costo dobbiamo spiegare da che cosa deriva perché probabilmente in questo momento qui abbiamo un po' di confusione dopodiché questo che cosa sta comportando sta comportando un po' una contrazione dei consumi poi si contrae il consumo perché il consumatore non lo trova non trova una giusta gamma non lo trova nel supermercato o perché realmente c'è un problema di capacità di spesa questo è un dato oggi che non abbiamo probabilmente è un mix di un po' tutti questi fattori però ecco ritengo probabilmente che sia indispensabile oggi tornare alla radice tornare a spiegare che cosa comporta per il produttore produrre in biologico perché è una cosa molto più ampia che non si può ridurre solo nel fatto di giustificare un prezzo che è un 20-30 o 50% in più del convenzionale c'è molto di più quindi forse ci dobbiamo concentrare su quel tipo di comunicazione dobbiamo tornare indietro di 20-25 anni probabilmente beh anche perché il consumatore secondo me vuole avere sempre più informazioni è un mondo che cambia molto ci sono poi delle i come dire piatti pronti ma già il comprare le come si chiamano le macedonie pronte avere questi angoli che sono tutti momenti emozionali perché io mi occupo soprattutto di GD quindi uno dice momenti emozionali però mi vedo che torno a casa dopo la mia giornata magari passo l'emozione per cui uno mi fa assaggiare la frutta come vedo lo storytelling passa da quello dell'olio passa da quello di là passa da quello di qua arrivo sfinita arrivo alla cassa esausta il tutto stando in un punto di vendita 20 minuti quando si fa una spesona quindi sono poi molto stretti i tempi in cui devono passare le informazioni perché di fatto si sta davanti agli scaffali uno non si rende conto certo che se il cervello hai per ogni prodotto che è pazzesco questo io trovo sia e poi per forza si sta nella parte nella parte visio all'altezza occhi all'altezza occhi poi dipende dal tipo di prodotto certamente pesanti vanno cercati giù in basso anche le marche di solito perché sono quelle che cerchi con caparbietà possiamo dire in alcuni momenti professor Russo quindi in questo quadro tutte le tecniche che ci ha raccontato tornerei sulla parola valore cioè cos'è che determina il valore di quel prodotto l'avete detto voi il gusto già il modo di produzione il prezzo ora io mi chiedo andando a guardare appunto la scaffalatura che c'è quanto riesce a creare valore quanto il prodotto crea valore di per sé perché farlo assaggiare diventa costoso però è un elemento interessante se tu prendi un pomodorino biologico due mondi però devi farlo provare l'unica a volte capita e questa è la cosa più pericolosa che è l'unico modo per differenziare i due prodotti e il prezzo eh sì perché è quello che il consumatore capisce diciamo magari lavorare un pochino più sul packaging cosa che in parte si fa potrebbe già differenziare ma provate ad entrare all'esse lunga ne cito una con cui stiamo lavorando è uguale identico dove ci stanno il biologico ci stanno gli altri e non c'è nessuna differenza se si provasse a spingere un po' di più la GDO a fare una differenzazione anche tipo cromatica o strutturale crei valore fai capire che quella roba lì appartiene a un'altra categoria evitando che sia soltanto il prezzo la differenza però quindi meglio un angolo in cui c'è scritto come in esse lunga veletta biologica dove so che trovo tutto lì più evidente più forte avete visto l'effetto come riserva indiana però ecco il punto è non essere più riserva indiana ma è quello che vuoi dire anche tu tra l'altro utilizzando anche dei packaging che siano più attrattivi noi abbiamo visto che quando il packaging è attrattivo le persone si fermano e lo guardano che significa utilizzare il cartonato cioè tante soluzioni ci sono vanno studiato ovviamente perché va studiato in comparazione con però il valore va costruito in quel momento in pochissimi secondi perché appunto come dicevo noi misuriamo con l'eye tracker e loro stanno da 4 a 20 secondi davanti lo scaffale significa che prendono sempre gli stessi prodotti e allora per venire fuori devi fare qualcosa per farlo rendere più evidente il prodotto e non è facile ma adesso arriva le retail media con tutto lo scaffale parlante sicuramente il packaging quando c'è stato diciamo l'esplosione del consumo del biologico ha aiutato molto il biologico perché era obbligatorio confezionare il prodotto biologico e negli ultimi anni abbiamo visto dal covid in avanti comunque una tendenza anche del prodotto integrato del prodotto convenzionale ad andare nel confezionato nel covid per una motivazione ma poi è rimasta la preferenza di quella modalità di acquisto per cui anche questo oggi diciamo non sta aiutando il biologico perché comunque oggi è tutto confezionato o gran parte è confezionato e quindi è difficile distinguersi quindi bisogna in quel vassoio riuscire a prima il vassoio era tendenzialmente più biologico invece oggi non lo è più perché il passaggio da sfuso a confezionato ha riguardato l'ortofrutta ma ha riguardato tutto cioè dopo il covid tutti volevano comprare solo confezionato sia nella carne pesce salumi e qui poi si aprirebbe un altro mondo enorme che è quello del packaging che però forse è meglio non affrontarlo sennò servirebbero un paio d'ore no ma faccia due una puntatina ce la regali no cioè ci troviamo di fronte a una delle tante anomalie con una delle tante anomalie per cui il consumatore abbiamo visto nell'indagine di prima che vede la plastica come una cosa negativa però nella modalità d'acquisto vediamo che preferisce acquistare un prodotto confezionato rispetto a quello sfuso quindi questa è una grande anomalia che sicuramente oggi la grande distribuzione sta facendo una grande fatica ad affrontare proprio perché vede che la tendenza cioè la volontà sarebbe quella ecologica però poi nella nella praticità compra il confezionato quindi vero però questo è quando gli si chiede al consumatore che prodotto vuoi lo vuole sempre biologico poi quando lo deve comprare c'è la questione del prezzo anche se a me è molto piaciuta l'idea che è il convenzionale che costa poco perché c'è un questo voglio dire è un tema che riguarda non soltanto l'ortofrutta cioè io arrivo da un convegno sull'olio evo e il punto lì è lo stesso per cui diciamo che il tema vero è far capire al consumatore che valore e qualità implicano dei prezzi più alti che poi non è inutile che poi ci stupiamo anche di quello che sta a monte cioè tutte le questioni anche del lavoro nero sono legate al fatto che se è soltanto il prezzo che deve essere più basso certo sono anni in cui il prezzo basso ha aiutato anche se poi è come dire strano ma un altro convegno gioielleria quindi come dire un altro mondo loro ci dicono ah grandi problemi perché l'oro è molto cresciuto quindi crisi di consumi allora io dico beh vuol dire che compriamo anellini molto sottili e piccoli no compriamo anelli molto più grossi perché in realtà quel prodotto lì è continuamente riconosciuto come un brand e rifugio allora cosa vuol dire che il consumatore sarà emozionale ma sa scegliere ed è razionale nella sua spesa e quindi il premium lo compra quando gli riconosce un premium quando riconosce quel valore lì ma questa non era la domanda alla quale dovevate rispondere allora abbiamo parlato di prezzo abbiamo detto che ci sono tante cose uno dei temi cavalli di battaglia di tutti GDO compresa oggi è sostenibilità abbiamo detto che il biologico è sostenibile ben prima di quando si è parlato di sostenibilità dell'agenda dell'agenda 2030 però il risultato è che bisogna fare i conti anche con la sostenibilità voi come declinate questa cioè come si può declinare biologico sostenibile perché abbiamo detto se è sostenibile per definizione come si arriva a farlo capire di più e come si raggiungono gli obiettivi che sono stati dati allora innanzitutto come dicevo prima creare dei contenuti valoriali sostanzialmente e comunicare in una maniera più corretta già i materiali che vengono prodotti anche con il progetto MediNet aiuta moltissimo da questo punto di vista anche perché una comunicazione come posso dire istituzionale è più credibile che una comunicazione di brand certo perché uno dice vabbè grazie cioè per forza ce lo fa un po' prodomo su però se noi accompagniamo quello che può essere il ruolo di una marca che si preoccupa comunque di approfondire di sviluppare il mercato e convincere i consumatori a comprare prodotto biologico e accompagniamo con una corretta informazione istituzionale con tanto di timbro della commissione europea diventiamo il sistema diventa assolutamente più credibile cioè non è facile non è facile bisogna trovare una parola d'ordine sostanzialmente che tutte le aziende la possano usare in maniera in maniera cioè che venga usata comunemente sì e che abbia un contenuto esatto che faccia da umbrello fa bene alla salute fa bene alla natura fa bene alla salute insomma fa bene al mondo fa bene anche a te cioè una cosa che possa perché non è facile andare a raccontare quello che si fa quello che si fa perché diventerebbe una cosa che no è vero però bisogna trovare un modo perché di sostenibilità stiamo parlando da tante tempo e poi dopo come dire il cioè magari è giusto dire che biologico è sostenibile quindi tutti quelli che non sono biologici hanno loro il problema di capire cosa vuol dire essere sostenibili però abbiamo anche detto che se i costi del biologico sono già alti la sostenibilità in maniera corretta certo non li abbassa perché come dire bisogna o mettersi insieme o fare partnership sì è sicuramente una sfida per il mondo del biologico ma direi che è una sfida per il mondo in generale nel senso che lo vediamo noi siamo in una zona che poi recentemente è martoriata del cambiamento climatico che non è sicuramente un ciclo della terra ma è causa dell'attività dell'uomo dell'attività antropica quindi non possiamo proseguire sulla strada di sviluppo che che si è intrepreso finora dalla rivoluzione industriale in avanti quindi bisogna fare delle scelte diverse e delle scelte che devono secondo me dovrebbero essere anche più coraggiose io un esempio che faccio sempre consumatore oggi lo vedo a casa mia cioè hai voglia di una cosa e la vuoi trovare nel supermercato anche quando non ha la sua stagione perché ad agosto non ci sono i finocchi belli come ci sono a dicembre e gennaio non ci possono essere il biologico dovrebbe essere più educativo anche su questo fronte quindi se in un certo periodo la pera biologica non c'è non c'è non ci deve essere nei punti vendita secondo me abbiamo chi crede nel biologico crede che sia il futuro un po' del mondo deve anche essere coraggioso e segnare un po' la strada ecco indicare un po' la strada perché altrimenti se vogliamo poi conformare il biologico alle stesse logiche di tutto il resto della produzione alla fine non risolviamo niente perché quando mi porto a casa le pere dall'Argentina per averle a luglio e agosto non credo che quelle pere anche se sono state prodotte con metodo biologico siano tanto sostenibili per il consumatore europeo e italiano oppure comprare l'avocado e sapere che non è mai maturo perché lo devi comprare quattro giorni prima sperando che non lo tiri contro il muro e ti ritorna indietro facendoti pure male quindi si può fare tanto è ovvio che sono scelte anche difficili anche a livello di imballaggio certe estremizzazioni sul fatto per dire non so al 100% carta con le colle naturali cose che hanno bisogna anche rendersi conto che oggi la tecnologia certe cose non te le consente quindi o non le fai o se le fai sai che maschere di sostenibilità è una cosa che in realtà non lo è eh sì quindi è ovvio che anche qui serve che tutta la filiera creda crede in questo in questi principi perché non possono fare soli produttori ecco bisogna arrivare fino al consumatore finale e dobbiamo lavorare tutti in maniera coordinata per farlo e ci crede la filiera ma io penso che stia iniziando a crederci anche perché il mondo ci sta il clima ci sta dando delle bastonate talmente forti che adesso iniziamo a svegliarci lo sapere poi vi faccio una domanda sul clima perché mi sembra un tema molto importante in merito alla domanda dalla quale siamo partiti e quello del Green Deal sicuramente è un tema sfidante ed è il tema delle società moderne quindi la direzione è quella ed è qualcosa con la quale dobbiamo inevitabilmente fare i conti però sembra ormai quasi scontato che quelli che sono diciamo così i parametri che in parte abbiamo letto anche prima probabilmente non saranno sostenibili esattamente così come sono stati definiti poi la strada sarà quella ma se dobbiamo pensare di raggiungere il 25% della SAO biologica forse 4-5 anni fa poteva essere diciamo così anche qualcosa di sfidante ma possibile oggi penso che non sia possibile perché noi oggi ci stiamo concentrando sull'aspetto del consumo quindi dobbiamo capire in che maniera dobbiamo comunicare bene il valore di quel prodotto per cercare di incentivare il consumo che è quello che abbiamo perso nell'ultimo anno negli ultimi due anni però non dimentichiamo anche non dimentichiamo anche i produttori cioè le aziende agricole che producono il biologico sono aziende agricole che negli ultimi anni sono in grandissima difficoltà ancor di più di quanto non lo siano le aziende che producono integrato o prodotto convenzionale quindi negli ultimi anni non ci sono aziende che convertono le produzioni quindi non ci sono aziende che si avvicinano al biologico anzi negli ultimi anni ci sono aziende che lo abbandonano nel biologico perché non è più sostenibile per l'agricoltore anche perché una piccola parentesi una grande difficoltà che stiamo vivendo nel biologico è anche quella del mondo industriale cioè la frutta destinazione industriale che nel reddito di un'azienda agricola biologica rappresentava da un 30 fino a un 50% del reddito del produttore venendo a meno quel mercato in grandissima crisi il reddito del produttore è stato diciamo così si è ridimensionato in maniera importante quindi oggi è difficilissimo sostenere per un'azienda agricola la produzione in biologico quindi quello che è il Green Deal se era un punto interrogativo 4-5 anni fa oggi oggi ci mettiamo anche qualche punto esclamativo con qualche qualcos'altro ok qualche PNRR non aiuta cioè nel caos generale li avrete fatti le richieste ma che sa mai aiutano aiutano però aiuterebbero qualcosa c'è qualcosa c'è in diversi territori si sta percorrendo anche quella strada di questa finanza agevolata però il problema è lo abbiamo realmente nelle aziende agricole non sono più sostenibili e quindi bisogna interrogarsi probabilmente dobbiamo partire da riuscire a venderlo di più poterlo valorizzare meglio ma dobbiamo arrivare a renderlo sostenibile per il produttore in primis e oggi è in grande difficoltà professore sulla sostenibilità lei cosa ci dice dal suo osservatorio ma al consumatore questa sostenibilità piace? se viene ben raccontata sì e la capisce? se viene ben raccontata nel senso che si dice appunto bisogna migliorare la comunicazione dare valore far capire il valore noi stiamo testando delle frasi per esempio da mettere sul peggio alcuni prodotti perché quello che vi ricordo è come l'etichetta che avete visto prima del vino noi guardiamo alcune cose ma in realtà loro guardano un altro quindi loro agiscono in maniera diversa anche alle parole in questo momento noi stiamo studiando per esempio la reazione emotiva e al gusto di due pecorini per conto della regione siciliana un pecorino fatto con latte di pecora che ha mangiato dei foraggi normali ma convenzionali e il pecorino fatto con latte di pecora che hanno mangiato bucce di fighi d'India o però? raccontarlo non è facile no? anche perché non tutti sanno la prima cosa che dicono alle spine la cosa interessante stiamo testando diverse frasi ne abbiamo trovata una che intanto il sapore devo dire che in blind c'è una piccola differenza perché pare che nel latte di pecora che ha mangiato bucce di fighi d'India che poi è uno scarto siamo nella zona di San Cono dove sono le coltivazioni di fighi d'India il latte trasmette i nutrienti delle bucce di fighi d'India e rimangono anche nel formaggio quindi dal punto di vista chimico è estremamente interessante il gusto è un pochino più dolce perché c'è l'effetto delle bucce di fighi d'India e infatti si vede che c'è una diversa reazione nel dichiarato ma anche dal punto di vista cerebrale quando però questo è in blind quando gli facciamo leggere che questo è normale questo invece è fatto con bucce di fighi la reazione è completamente diversa cioè la reazione intanto al gusto è ancora più dolce dice che è ancora più dolce quindi più gradevole e l'attivazione cerebrale in positive è molto più alta è chiaro che abbiamo testato diverse frasi perché non è facile trovare la frase giusta poi bisognerà lavorare sul packaging perché anche lì l'immagine possiamo pensare che i consumatori si mettano a leggere tutte quante le frasi perché non lo fanno è l'ora di giocare molto di immagine e di packaging però questa sarà una seconda fase dell'esperimento anche perché ci abbiamo sempre 4-20 secondi anche leggere la frase metti l'occhiale togli l'occhiale guarda da lontano parole che rischiano attenzione immagini che spiegano cosa ci sta dentro il prodotto volevo farvi questa domanda sul cambiamento climatico che sicuramente implica anche un cambiamento nella produzione oggettivamente e quindi anche in questo caso come prima ci stava già dicendo il signor Lunghi Langhi ok perfetto sbaglio sempre oggi non è giornata di nomi scusatemi vuol dire anche far capire al consumatore non solo che ci sono dei prodotti che non ci sono durante l'anno ma che forse ci sono delle varietà che sono destinate a sparire oppure alcune varietà che vengono anticipate rispetto ad altri come la vedete e come vi state già adeguando sì cosa state facendo ci stiamo adeguando non per scelta per obbligo stiamo cercando di affrontare quelle che sono le difficoltà che stiamo riscontrando negli ultimi anni però probabilmente ancora neanche noi ancora sappiamo bene come affrontare questi discorsi perché è estremamente difficile riuscire ad adattarsi a questi cambiamenti perché gli agricoltori sono stati sempre pronti alle problematiche però erano problematiche diciamo così calamitose nel senso che era una cosa che succedeva una volta ogni X se quella cosa succede in maniera così frequente diventa estremamente complicato ed è impensabile che in alcuni territori dove si sta riscontrando in maniera straordinaria questo cambiamento climatico è impensabile oggi pensare di non produrre più quindi dobbiamo in qualche maniera adeguare le produzioni i territori a questo cambiamento climatico questa è una cosa che non riusciremo a fare nel giro di poco tempo e questa sarà una cosa estremamente costosa e questo costo dovrà essere inevitabilmente un costo sociale perché l'azienda agricola non è un costo che riesce ad assorbire da sola e quindi questo sicuramente sarà un tema strategico per la produzione del territorio nazionale in generale perché poi adesso abbiamo visto quello che è successo con l'alluvione però abbiamo visto quello che è successo con il gelo negli ultimi anni quello che succede con la siccità in altri territori quindi sicuramente è un tema importantissimo ed è un tema del quale se ne deve fare carico la società non se ne può far carico l'agricoltore perché non ce la farebbe ok anche questo un tema vastissimo e complessissimo sicuramente produrre sta diventando sempre più rischioso quindi l'investimento specie frutticole in particolare che hanno durata pluriannale l'investimento è sempre più a rischio io ho sempre sostenuto che come tutti gli investimenti di rischio è come giocare in borsa uno differenzia per ridurre il rischio e questo rimane secondo me sempre valido è ovvio che ci sono delle culture che stanno diventando impossibili da fare torniamo al discorso che facevo prima sicuramente l'agricoltore deve essere sempre più preparato e deve cercare di limitare questo rischio con quello che le tecniche la tecnologia i meccanismi di protezione possono offrire che siano le pale antigelo che siano le reti antigrandine antinsetto perché oltre agli eventi climatici abbiamo anche le nuove patologie gli insetti alieni che rendono sempre più difficile anche in un periodo dove giustamente si va verso una riduzione di quelle che sono le armi che per il convenzionale sono anche la chimica nel biologico invece sono i prodotti naturali però diventa sempre più difficile quindi sicuramente dotarsi di questi strumenti di protezione ha un costo e quindi l'investimento richiesto diventa sempre più importante e sicuramente che sia biologico che sia più convenzionale non si tornerà ai livelli di prezzo che si avevano alcuni anni fa io che purtroppo ho una storia lunga purtroppo perché ormai inizio a essere grande anch'io una storia lunga nel settore oggi abbiamo dei livelli di prezzo che una volta erano impensabili e oggi sarebbe impensabile tornare a produrre un cestino di nettarine a 65-70 centesimi oggi è soltanto il costo che si ha dal confezionamento magazzino quindi sicuramente il mondo sta evolvendo e sta evolvendo anche sulla spinta del cambiamento climatico e delle nuove avversità cambiano le produzioni cambiano le culture cambia anche piano piano il consumo quindi ma piano piano il consumo piano piano esatto quindi è proprio quello che ci siamo detto fino adesso il fatto di mettere in pista tutte quelle azioni che possono aiutare questo processo dall'inizio alla fine quindi lavorare con i produttori per trovare le soluzioni per ridurre i rischi produttivi perché oggi il grande limite è quello di riuscire a produrre più che quello di riuscire a vendere negli ultimi anni è stato assolutamente così ma dall'altra parte bisogna anche lavorare per dare consapevolezza alla filiera fino appunto al consumatore finale ecco che poi va educato come ci siamo detti prima questo territorio noi facciamo siamo rappresentanti di aziende che rappresentano la produzione organizzata associativa e questo è un grande vantaggio per il produttore perché in ogni caso questo comporta la possibilità di trovare degli sbocchi produttivi nuovi diversi alternativi per i soci produttori e dall'altra parte anche di andare a massimizzare quelle che possono essere le risorse da investire in forme in tecniche che prima in questo territorio particolare non venivano neanche accaressate come idea invece oggi si rende quasi obbligatorio il sistema antibrina quasi obbligatorio la rete antigrandine cioè perché altrimenti è quasi obbligatorio i sistemi di irrigazione di precisione quindi la produzione organizzata porta questo vantaggio da una parte comporta nel lungo periodo una programmazione produttiva che può evitare le crisi di mercato fino a un certo punto dall'altra parte una tutela per il produttore che ha insomma una struttura che orienta e finalizza e ottimizza degli investimenti da fare in campagna eh certo va bene qualcuno ha qualche domanda no tutti ne abbiamo fatta abbastanza allora grazie signori di tutto di quello che ci avete detto grazie a Mauro Laghi Paolo Pari Vincenzo Finelli e il professor Vincenzo Russo grazie mille un attimo di pazienza perché volevo lavorare a padora esatto esatto ci arrivavo Pietro 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 Bandini fondatore dell'azienda agricola biologica Quinsan che ci ha ospitato qua ci racconta un po' di lei beh intanto grazie a tutti per il fatto di essere qua e di discutere del tema che è stato affrontato oggi comunicare la frutta biologica ed è quel fra l'altro io produco frutta biologica quindi mi interessa molto ascoltare questi questi di questi discorsi che sono stati affrontati oggi ecco mi chiamo Pietro Bandini detto Quinsan che è il soprannome della mia famiglia da più di 200 anni quindi anche il mio babbo anche il mio nonno venivano chiamati così dai nostri colleghi attualmente la stessa cosa e quindi quando ho iniziato ad appassionarmi al dialetto e ad altre cose questo è il nome che useremo sempre per tutto per tutto ma vuol dire cosa vuol dire? è il nome di un podere che sta verso Modigliana nell'ottocento la mia famiglia abitava là quando si spostarono giù in pianura non subito qui gli altri sono quelli che vengono da Quinsan e quindi siamo rimasti così fino da allora qui in azienda produciamo frutta in particolare albicocco pesco susino ikaki produzione tradizionale quest'anno i miei ikaki compiono 50 anni quindi è una cosa anche bella e olivo per per olio e uva uva è da vino produciamo trebbiano sangiovese merlot e soprattutto il centesimino che è l'autoctono qui di Faenza e dopo potremo assaggiarlo sia nel calice ma anche proprio nell'uva che ho portato un pochino di uva che ho finito di raccogliere proprio proprio ieri ecco e riguardo i discorsi che sono stati fatti oggi sono stati veramente molto interessanti e io ci tengo a dire che quello che comunichiamo deve avere dietro qualche cosa di vero ecco perché noi possiamo usare tutte le strategie che vogliamo per capire come ragiona l'altro il nostro interlocutore per acquistare il prodotto però dobbiamo dire una cosa che è vera se parliamo di sostenibilità non dobbiamo darci un'immagine di sostenibilità dobbiamo essere veramente dentro un percorso che vuole arrivare questo perché io non posso dire sono biologico quindi sono sostenibile è un percorso iniziato per me 25 anni fa ma noi bio dobbiamo ancora camminare anche anche noi sicuramente ecco perché sostenibilità è una cosa complessiva e lo sappiamo tutti quanti e anche quando facciamo le operazioni di marketing che diciamo siamo sostenibili la decarbonizzazione e tutte queste altre cose qua insomma bisogna che stiamo un po' attenti perché nel momento in cui io consumatore mi accorgo che mi perdono in giro poi questo è sicuramente un problema un problema quindi quando comunichiamo una cosa bisogna che almeno visto che partiamo su un concetto positivo del biologico è giusto che sia anche vero e l'altra cosa che ho sentito importantissima ecco è veramente non è non è automatico se noi comunichiamo un prodotto da vendere ma non è sicuro avere il prodotto specialmente in bio non è sempre sicuro avere questo prodotto tutti gli anni nella stessa misura ecco quindi anche questo è un percorso da fare tutti quanti tutti quanti insieme certo adesso io la chiuderei qua e visto che nella mia fattoria ci sono diverse esperienze oltre a quella della frutta quella della cantina ma anche quella della fattoria didattica domani dopo domani ci saranno scuole qua e faremo faremo diverse robe infatti vedete i cartelli che ci sono c'è anche l'esperienza musicale che nasce anche questa da tanto tempo e quindi io vi lascio una cosa ben augurante con una brevissima stronella che fotografa un momento preciso in cui il bovaro diciamo sulle 4 e mezza di mattina sta lavorando mentre gli altri dormono in cielo scompaiono le stelle ne rimane una e quella è la sua che dice così grazie grazie sono emozionata con questa comunque allora signori grazie a tutti tanti temi ritorneremo ora è il momento del buffet si scende da quello che ho capito e buon lavoro a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti